... Passo di due sicuro? E non vado. Aspetta. E non faccio esso. Passo di due... Ah! Vabbè, ho mai partecipato. Ma a tutti, amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Grounded. Aspetta. Ti sto per dire. Io, nel video che stai per fare, di Grounded, poi dipende, però penso di sì. Però è il meglio di me. Uscirà un altro buongiorno false end. Non la taglio sta parte. Non la taglio sta parte. Con cazzo che la taglio sta parte. Vediamo se riesco. Ragazzi, madonna. No, ti lo disattivate. No, ti lo disattivate. Perché se no, mi spurni. Mi spurni con l'audio. Eh, io pure. Come te chiami? Sto cazzo. No, mi chiamo... Oh. Hai sopperti al parco. Ma te! X box. Gli altri dicono di no. Io lo vorrei vedere. F. Salta. F, ragazzi. Eh. E' facile. No. No. Eccoci su Grounded, ragazzi. Vediamo un po'. Che? No. Oh, ma... Ma to' che bella la grafica. Oh, ma che? Ma hai migliorato un botto dall'ultima volta. Mi inganto. Ma che vuol dire? Scusi. Che hai detto, Dali? Va bene. Scusa. Scusa. Va bene. Non c'è bisogno. Perché sento il mare? Perché siamo vicini al mare. Non è... Guarda, me lo stavo chiedendo dall'inizio della chiamata. Ma... Ma... Qualcuno sa... Fa... Sa in pizzo. Eh, Matteo sta in montagna. No, sta in pizzo. Che fai? Ah, no. Ti ho dato un puglio, scusate. Vai a casa. Esplora l'ambiente circostante. E qui ci lo volevano fare. F. Ecco. Ma... Ma te, che sta facendo? Madonna, ma io c'ho pingantissimo. Sto co***o. Hai trovato test di sicurezza SPRACK. Ma che è? Io non lo so. Come si fa a vedere il ping? Ma sai che non... Come si fa a vedere il ping? Coesc. Che rubi le co**o. Ma io ne prendo in prestito, ho visto così. Perché è napoletano. La casa è nel cuore di ogni... Scienza pura. Potete celebrare? L'ho vittato, l'ho scannibito. Potete celebrare? Quello non ce l'ho. Ah, si può dire bestemmia in genna? Sì, si tendo un eredito. Ah. Ya, parla. No, non ne dico adesso. Vabbè, dopo. Allora. Adesso ti sento un treno. Allora c'ho una bella accetta di bambù. Cazzimbù. E poi c'ho una lancia. Madonna, dove sta la formica? Madonna, cara. E qua? Addosso. Se può? No. Che devi fa? Madonna, guarda con le manine. Ma che fia no? Ah, ma io posso tagliare erba, ragazzi. Così ce la fumiamo. C'estate? No. Allora, ragazzi, v'ho perso. Io c'ho paura di rimanere da sola. Vengo con te, frate. C'ho erba in mano. Come? Ma posso lanciare erba? Oh, madonna. Questo è quello che fanno i marocchini quando vedono in polizia. Ma che qua? Oh, madonna, incassatissimo. Ma hai shottato? Chi è? Ah. Ah, io pure non pensavo. Eh, c'è star fuoco amico. Voleva andare al computer. Ho premuto il tasto sinistro e pensavo che si dovesse... Madonna, da arancia o da arancia? Anche perché la arancia è fatta per? Ma perché sento doppio, ma mannaccia? Prostac ma? Aspetta. Poi io sento doppio. Secondo me è colpa di quello. No. Di Matteo. Ho perso me da vita, mannaccia. Madonna che cagnone enorme! Porco dinci! Via, 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 via. No, quella com'è, via? Cosa? Ah, hai lanciato l'ascia. Aspetta. Aspetta, possiamo tagliare. Giusto! Ma... E c'è mia! E ce l'abbiamo tagliato. Oh, sto bastardo! Oh, a dove stai? Vieni qua. Madonna accettata. Accetti? Che animale è? 3.000 giorni. No. Ma che sei compito? Ma che è? Ma che mangi di vengalo a questo? Oh, a capo di me. Ho ucciso. È morto la chiesa. Oh, ah già. Un ex. Ha già ciso. Ma quanto è che coccine il muore enorme? Quanto è che bellino? Oh, no. No. Guarda che bello. Mi sono trovato in mezzo a due rani. Li murti. Guarda che bella sta coccine. No, no. Quanto è bellino. Ma è bellissima. È una delle cose più belle. No, ma non ti posso ammazzare. Non ti posso non ti potrò mai ammazzare la madonna. Quanto è bellino? Che serve perché è il banco da lavoro? Allora, l'ho appena costruito, l'ho appena costruito. Oh, fiero. Oh, fiero. Che schifo, però, che schifo. Porco, me so cagato addosso. Ma dove sai? Sulla coccinella. No, mi hai ucciso. No, su. Ma che bella. Troppo bella. Allora. Ma te, devo pigliare roba, devo fare qualcosa? Siete andati sotto te, ragazzi. Per cuocere la carne, lo spiato deve essere acceso. Ovviamente. Vabbè, no, ma aspettiamo il suono che ci aiuti. Sì, considerando che... La luce sta... Ma no. Cazzo è quell'insetto enorme? Ammazzamolo, subito. No, 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 per Dio se n'è andato. Se n'è andato. Aspetta, io c'ho un po' di carne, mia. L'insetto non è considerabile carne, giusto? Ah, boh, ma non siamo schifizinosi. Dipende dal contesto. Secondo me quasi. Comunque... Io ho messo a cucinare qualcosa. Non so, dove sta? Ho messo a cucinare. È quello che gira. E... Tante cose gira. E capisci, è buono, è pronto, quindi devi stare a guardarlo. Tante cose girano. Accendiamolo. È una torcia. Accendiamo? Esiste. No, fammi abbia un po'. C'è un puntero, lo devo per forza ammazzare, perché mi sembra da mangiare. Ah, fatti ammazzare, madonna santa. Oh, vedi che quando vuoi. Ah, cuciniamo sto deficiente. Oh, vabbè. Che sto vuoi? Mi senti anche io? È l'afide che sta incastrata. Asino. Afide. Ah, no, mi sono preoccupato. È un asino. Questo è il big... È un boss. È baggato da sotto la roccia. E continua a fa... Vabbè, perché io non lo ammazziamo. Vabbè, abbazzatelo. Bravo, Steph. Perché io devi soffrire? Ho provato, ma è sbagliato. Ah, proprio... Madonna, sto a muovere, è negato. Ma una tonda, la cassa, è in te. Mi sa che mi dobbiamo acqua turbida qua, che se no non muo di tipo, siete. Io manco riesco a trovare acqua. No, cavolo, ho toccato una formiga per sbaglio. Mamma, ci caccivi tutto qua. Eh, si è incazzato, ormai la devo uscire. Oh, hoops. Hai stato perfettamente indocrinato da la nostra cultura di consuma. Dov'è l'acqua? Arrosso di punteruolo. Madonna, la cassa. No, arrosso di moscerino. Non c'è l'acqua. Eh, oi mio. Non c'è l'acqua, madonna. Dente di leone, ok. Vabbè, in mezzo a un giardino di casa ci stanno i leone. Stiamo considerando che sta qui buono o buono, se non ho qualche utilità ce l'ha, dai. Io devo beve un'acqua turbida, capite? Se no muoio di sede. Bevi o muori? Ho capito, ho capito. Non te lo impai, ah. Incazzatissimi, in giù. Ma beve. Scumati un'acqua turbida. Yeah, yeah. Oh, c'è un regno gigante. Accigata. Ma che animale è, oh? Hai provato a prendermi, brutta mea. C'è un regno. Come ne hai fatto che questo? Regà, non riesco a uscire. Dove sei? Che è successo? Aspetta, andiamo, andiamo. Andai, oh. Facciamo ansio. Che è successo? Mi sta proprio trenando tutto. Aspetta, ma che è successo? Non riesco a uscire da qua. Ma, da dove? Regà, guardate come mi muovo. Io non riesco ad andare oltre. Aspetta. Perché ci sono i ragni che dormono qua. Io sto, io sto. Prova a passare. Perfetto. Via, via, via. Ci sono due ragni. Vabbè, cazzi loro. Dai, cazzi. Poi ci ammazzo. Mangio o muori? Che cazzo voglio. Ah, preso una gara. Prima che sto girando a prendere roba, quindi vedetemi che vi serve. Soldi. No. Ma in suo gioco una moneta sarà enorme. Cioè. Sennò forse noi lo utilizziamo come scudo. È l'arma definitiva. Come scudo. Ah, madonna. Fai appartamento. Cioè fai, no? Scudo. Vabbè, ma io dico 5 centesimi. Amico i 2 euro. Eh, guarda. Ho bisogno di ragionare bene. Ascolta. Sto visto il suo occo potere celebrano. Che dipende da ogni genere di tutta una botta. Oh. È bellissimo. Si sente la coccinella che dorme. Sto portando la coccinella e sono fatte bellissime. Come se stesse tipo rossicchiando. Ah, quindi gusto anche di giorno quando cammina. Magari scorreggia. No, no, ferma. C'è più di buona animazione. Ma abbiamo dormito? No. Eh, no. Ma Terra, quando è che sei diventato da rabbia? Ma non è che sei diventato da rabbia? Eccolo, bancale per assi. Siamo diventati di livello. Ah, serviva essere Intelligenz 2. Vabbè. Io comunque mi sento... Boh. No. Ho trovato un magazzino finalmente. Io mi bagno una bella barretta. Spooks, che barretta? Proteica. Sì, sì, dico. Che gusto? Somma. Coco. Coco. No. C'è un buone di pane. Chasando. Mi fate baria a sto punto direttamente, per favore. Oh. Un Nils. Sì, sì, sì. Ma a sto punto è vero, ma a sto punto è vero. Mi è tutto buicciato. Mangialo. Non, non, non. Hai capito? Con un sattocci gatti. Dab. No, io invece. Madonna. Sono due, po'. Io c'ho... Io c'ho le pallette bianche. Ma mi attacco! Vabbè, ho capito, tipo. Ma è un boss, questo. Torpitevo! Madonna! A venena, eh? Attendi. Ma ne frega un cazzo! Ma attacco! Avanti! Sa voglia! Ma madonna! Sono tutto buicciato, po'. Che boss è? Che... Ma va che... Ah! Un Nils! Osce! Osce! Ok, basta. Andiamoci. Una grande vittoria. Madonna, quanto per me è! Sì, ma sai che vorrei... Cioè, non era lui il fatto che stavo guardando. Arriva la mamma. Arriva la mamma. Di san bastardo. Osce! Osce! Madonna, mi me ne vado... Osce! No, frate, no! Frate, no! No, vedi. Non mi senti ci incroci di questo. Se dobbiamo morire, frate... Frate, frate, se dobbiamo morire, moriamo insieme. Ma pensavo con onore. Forza e onore! Mamma mia, non ragni... Sì, sì. Prendimi per culo. Allora, frate, facciamo un attacco da lato. Sì, Assassin's Creed. Lanciamo la lancia. Lo scendiamo con l'ascia. Ammazziamo. E scappiamo. Vabbè. Ancora. Ma una pistola in si può graffitare. Che ha salvato il 3D, sì. Minuscola. Ancora. Ancora. Ho un dubbio. Io... Oh, cazzo. Ma dove è l'acqua? Chi è? Madonna! No, no, no! No, ti sei... Ti sei fatto sgamare, oh! Oh, show. Oh! Madonna. No, frate, fermo. Fermo, fermo, frate, fermo. Sdraiati, sdraiati. No, no, no. Anguè. Dove sei? Ma impazzita, che sta facendo? Non bene. Ma non ci... Non si può fare tipo un deposito, quello. Eh, stanno andati a falloti. Eh, può essere. Può essere. Eh, forse, secondo me dobbiamo fare science plus plus. Dove sta la casa? Ma lo sai che finora sono passato davanti alle formiche e non mi hanno detto niente. Eh, vabbè, ci stanno quelle... Come si chiamano? Quelle sondato. Ah, ok, ok. Ci sono i quadri. Ci stanno i quotes. Allora. I quotes. I quotes. I formiche quotes. A posto. Grande, ma tu è single player. Così non posso recuperare il mio zaino, grazie. Testa di cusso. Oh, a segno. Totale. Oh, ma tu è tornato grande. No, sei con tutto coso. Chiama gli ingegni. Ma dai, ma tutto. Chiama gli ingegni. Ingegni. Posso costruire. Ma c'ha sangue. Upli, 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 come sei diventato tutti quanti? Ma, io sono... Ma. Non ho capito. Niente. Ah, ma tu è. Fede, ci vedi le corde? Posso. Ok. E' un picco da allora. Ma, gatti. Poi dipende che la devo tagliare, non lo sai sta parola, sì. Ma che cazzo te ne frega. Madonna, sta formica. Madonna. E' otto le panno. E che cazzo. Di un musico che cosa vuoi. Beh, ma tu vai tu? Ah, fanno. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno. E voi. Mi sono volato dire. Terminale di disidratazione. Col blackflip. Blackflip. A sto coglione, oh. C'avevi una goccia deruggiata in capo. Porco, due, oh. Eh? Mamma mia, oh. Cazzo, dici? Ho rivisto. Sì, sì. Stavo a conto. Sì. Allora, aspettiamo che... Occhio, occhio, sul fianco. Arrivo. Ma stanno alla casa? No. Tuppe. Dietro. Oh, vada a chi... Faccia dietro. Porco il clero. Oh, sta arrivando la cimice. Accio, accio, accio. Via. Hai subito una ferita. Eh, un attimo, eh. Non c'è un'altra. È vero. Sedi a macca. Buacca. Sedi a macca. Osservare. Penso che prima o poi bisognerà ucciderne qualcuno. No, vai, no. Eh, so sentire la cucinella che... Ti ammazzo se lo fai, madonna. Ma non è vecchio il formigaglio. È nuovo. Ah, non è ristratturato. Hai capito i soldi che ci hanno? Eh, poi andiamo a fare una catata, scusi. Tiè, chi ha acceso il telefono? Che brutto idò. Oh, che cazzo è? Vabbè, finché non ci rompono i coglioni... Frate, io... Facciamo lo scompero. Siamo della guaglia di finanza. Madonna, ma qua ci distruggono. No. Eh, lui è un soldato. E poi tu rimanerà. Infatti. E poi se ci avviciniamo proprio a casa, è un taxi. Oh, ma non è già. Ecco. Vabbè, ci sciettiamo. Mamma mia, mamma mia. Cosa c'è? Ho rubato tutto, ragazzi. Ma che è? Niggasin. Questa è niggasin. Ingridibile. Sono niggasin. Ehm, sono almeno le ghiande. Come cazzo sta l'amore? Eh? Le ghiande? Eh, boh, dobbiamo uccidere. Eh. Perché siamo sotto l'albero. Vittima. Po, po, pi, po, pi, po, pi, po, pi, po, pi. No. Che è sta l'amore? Cazzo. Oh, mamma mia, gualiò. Vai va a te. Aia. Non c'ho più stamina. Uccise, uccise, uccise. E B? Ok. Recuperiamo, recuperiamo più. Questa cosa è? Un parmo robusto. Un scarp. Una scabbia? Aspetta, fermo. Ce l'ha mai avuta la scabbia, la genna? No, va bene, ragazzi. Ma cacchiera. Marmorino. Oh, madonna, qua c'è giù da O. Hai scofetto qualcosa? L'acqua lo utilizziamo per queste fresche qua sopra, che non ho capito se sono mosche o se sono... Sono mosche. Secondo me sono moschini proprio, sono i moschini. Potrebbe. Fresca è la sera. Ma che c'è, scusa? I petali dei cerchi. Eh, per fare le cerchi. Quindi poi lo prendi così, poi. Eh, c'ho il ventano pieno, mi so riempito completamente. Ah, ok. Effettivamente. Oh, madonna. Ma se ne è andato. No, 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 no. No, che è successo? Mi ha tirato la ragnadela. Ok. Oh, cazzo. Ammoni, ammoni. Saltate. Come si esce da sto posto di merda? Saltate, ragazzi. Tu non lo vedi che vi dirà la ragnadela. T'ammazzo, brutto stronzo. Facceva con me, eh? Aspettate, quanto danno gli fai? No. Si, no. Via, ragazzi. Mi faccio la vita, Mace. Lo facciamo l'attacco tutti quanti assieme. E poi se mi decci pure mentre scappo, che c'è di cappa? Eh, che cazzo, però, questa ragnadela del merda. Distruggiamo, perché ci vogliamo andare a Rob. A forza, a forza. C'è tutto a mano a Rob. C'è tutto a mano a Rob. Inseguendo a me, adesso. Ma te, che fai? Ok, mi ha lasciato sto. No, asfalto un'altra. No, ragazzi, è tu. Ce n'è un'altra. Ah, mi sa, allora, il secondo come sta' insieme a me. Dobbiamo andare. No, se rimaniamo qua, è la notte. Oh, ma dove cazzo sto andando? Cos'è questa roba? Che sto cosa? Cazzo. So a terra, qualcuno che può salvarmi? Dove stai? Cazzo, aspetta. L'avvicino. Ma chi ti ha acceso? Non lo so. Si è ritrovato morto. Cioè, non mi è appena, non so morto. Sto coglione, sto coglione, sto coglione, sto coglione, oh. Madonna, io non vedo. Non vedo, non sento. Sono morto. 15 secondi. Sto coglione. Sto coglione, oh. No, no, ce la vado, ce la vado. Vai sì, nello. Grazie mille. Qua si sta facendo? Grazie mille. Madonna, per te. Dammi una pacca sulla spalla. Guardate, se hai scato il ragno laggiù. Dove? Grazie mille. Bisogna attraversare sto muro di legno. Sì, ma questo è in buco di Asgard, questo. Che puoi dire. Sì, no, di runny. Sì, buco, perché ha già, sai? Scusi, io sto bene qua. Ah no, ma c'è un buco qua. Eh, ma c'è un buco qua. Ho capito. Dov'è nevas? Ok. Lo proviamo, lo vediamo tutti insieme. Esatto. Ho passato da destra e ho andato sulla destra. Sì, c'è un buco. Andiamo, però per il resto. Via, 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 via. Wow, che mi rimmerd. Vede. Porco. No, no, scherzo. Che è sto fungole? Sto coglione, ho. Wow, che mi rimmerd. Monceri. Nere, nere, nere. Beh, ma sì, ma mi ha buttato fuori. Vabbè, sto giocando per il cazzo, eh. Spacco tutto. Non, no. 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 No, no. Grazie a tutti